Il Palazzo Ducale di Urbino si amplia e si completa. A 110 anni dall'istituzione della Galleria Nazionale delle Marche, sono più di 100 le opere aggiuntive che il pubblico potrà osservare all'interno del museo dopo l'inaugurazione di 8 nuove sale espositive al secondo piano. Secondo piano che insieme al Torricino Sud era fino ad ora inaccessibile, ma che da adesso è in grado di offrire un percorso nella storia dell'arte marchigiana mai presentato prima. Il museo ha un nome interessante, si chiama Galleria Nazionale delle Marche, quindi deve raccontare contestualmente la storia dell'arte nazionale declinandola a livello regionale. E credo che la sfida di questo secondo piano sia stata proprio questa, cioè riuscire a riannodare i fili tra maestri, scuole, scuole regionali, all'interno di secoli importanti che sono quelli tra il 500 e il 700, quelli in cui le Marche danno molto alla storia della cultura italiana, con artisti di calibro enorme, naturalmente il 500 comincia con Raffaello ma si chiude con Barocci. E proprio questo secondo piano voleva raccontare questo. Lo abbiamo potuto fare grazie naturalmente al lavoro dei nostri uffici, all'eccellente lavoro dell'architetto Francesco Primari, che lavora qui a Palazzo Ducale, dell'ufficio degli storici dell'arte, me compreso, e con l'appoggio naturalmente delle ditte che hanno lavorato qui, e grazie al deposito di opere della Cassa di Risparmio di Pesaro. Nel 600esimo anniversario della nascita del Duca Federico da Montefeltro, dopo un accurato intervento di restauro, torna ad essere esposta anche la lunetta di Luca della Robbia, alto rilievo in terracotta realizzato nel 1450. La lunetta anche quella è stata una cosa estremamente importante, un'occasione importantissima, perché la lunetta di della Robbia, che quindi apre il percorso del museo al Piano Nobile, è stata restaurata grazie al sostegno di Confindustria, e in qualche modo è la prima opera che accompagnerà il rifacimento totale del Piano Nobile, che comincerà nel mese di settembre. Quindi abbiamo chiuso una settimana fa il secondo piano e il primo settembre si comincia col Piano Nobile. Luigi Gallo si è poi proposto dal mese di settembre come guida all'interno della galleria per cercare attraverso la sua conoscenza di dare maggior prestigio ad un museo già ricco di valore. Prometto che a partire dalla prima settimana di settembre farò una volta ogni 15 giorni un appuntamento per chiunque voglia visitare Palazzo Ducale con me.